Salve unici appassionati di Football Manager, qui come vi sapete c'è Mike94 e noi siete Football Manager Italia Siamo qui di uno Football Manager 2017 con il nostro mitico Reus e oggi andremo a vedere la partita con il Lugo Ragazzi ho deciso di concludere questo campionato in questi ultimi tre episodi Quindi quello di oggi, quello di lunedì e venerdì Dove andremo a vedere oggi appunto la partita con il Lugo e poi nei prossimi episodi altre due partite Dove più o meno matematicamente, almeno spero, saremo o campioni nella Liga 1, 2 e 3 Quindi nella seconda categoria appunto spagnola oppure almeno secondi Insomma a me basta che saremo proposti Siamo già matematicamente nei playoff, quindi obiettivo stagionale più che raggiunto Siamo a 79 punti, quindi in teoria senza troppi problemi dovremmo essere almeno secondi Quindi promozione diretta, quindi vi voglio far vedere semmai le ultime tre partite Dove la matematica poi ci porterà in Liga Santander Ovviamente ragazzi in questi tre episodi non andremo solo a vedere le partite che appunto giocheremo Ma parleremo sia di mercato, infatti vi farò vedere la lista dei giocatori che per il momento non vogliono venire Ma sicuramente poi arrivando in Liga Santander cambieranno idea E oggi soprattutto andremo a parlare di tutto ciò che ho fatto fino adesso Sono passati pochi giorni ma ci sono alcune novità In primis ragazzi ho fatto tre richieste alla dirigenza Per fortuna tutte e tre mi sono state accettate La prima ho aumentato l'area che possiamo osservare grazie appunto al nostro staff Quindi da adesso possiamo controllare i giocatori anche extra europei Quindi in Brasile, Argentina, in Asia, in Africa, in Oceania Questo è molto importante soprattutto per vedere i talenti brasiliani e argentini Poi ho chiesto uno slot in più per i preparatori Come potete ben vedere fra gli osservatori siamo messi benissimo Infatti per la seconda categoria siamo al top Invece per i preparatori facciamo un po' schifo Quindi assolutamente l'anno prossimo dobbiamo migliorare tantissimo il reparto tecnico E ultima cosa non meno importante Ho chiesto l'aumento della percentuale sugli incassi delle vendite Che se non sbaglio prima era al 70% adesso è all'85% Non male non è ovviamente tantissimo rispetto al 100% Però meglio 85 che 70% questo è poco ma sicuro Sperando che poi in futuro non ce lo abbassano di nuovo Per quanto riguarda le strutture dell'allenamento per le giovanili Ragazzi come già vi ho detto non sono ancora molto convinto di fare questi miglioramenti Perché sarebbero soldi buttati Visto che l'under 19 per il momento è scarsa E non so poi l'anno prossimo quanti acquisti farò per le giovanili Perché ovviamente ci dobbiamo concentrare sulla prima squadra Potevamo anche migliorare il settore allenamento per i giocatori grandi Diciamo per la rosa principale Ma ci volevano tipo 3 milioni soldi che per il momento io non voglio spendere Perché comunque diciamo che per le giovanili le strutture facevano abbastanza schifo Invece per la rosa principale le strutture sono medie Quindi diciamo che per il momento ce le facciamo abbassare Poi quando ingraniamo anche in prima categoria potremmo chiedere ovviamente le migliorie Per quanto invece riguarda lo stadio ragazzi voglio aspettare la promozione Perché se io lo chiediamo adesso secondo me non accetteranno ovviamente di aumentare la capienza Dello stadio invece se aspettiamo la promozione secondo me senza problemi lo faranno Non voglio chiederlo già da ora per non rischiare che adesso me lo rifiuto Nel tipo fra un paio di mesi non posso richiederlo Quindi aspetto un altro po' E poi sicuramente è una cosa che dobbiamo fare Perché per il momento il nostro stadio ha una capienza di massimo tipo 5.000 posti Quindi assolutamente dobbiamo fare questo cambiamento E questo ampliamento più che altro Detto ciò ragazzi voglio ringraziarvi per tutti i commenti che mi state lasciando sotto gli ultimi video Con i tantissimi consigli per la quale veramente io vi ringrazio infinitamente Come vi ho detto non riesco a rispondere subito per motivi di studio Ma io ovviamente li sto leggendo tutti piano piano Ovviamente alcuni sono contrastanti Quindi c'è qualcuno che dice una cosa e qualcun altro che dice un'altra Quindi ovviamente non posso dare ascolto a tutti Ma ovviamente agirò sempre per il bene della squadra Per quanto riguarda i giocatori in scadenza Io come sempre ci sto pensando tantissimo E quindi non ho ancora acquistato nessuno Ma vi spiego anche i motivi In porta a me piace Casto Devo essere molto sincero È un portiere che è molto interessante Anche se per lo staff non è proprio il top del top Però secondo me potrebbe essere un buon portiere Che non chiede un occhio della testa Quindi in teoria potrebbe essere un buon portiere Nonostante però i 34 anni Non ho ancora offerto contratto Perché sto comunque aspettando Per vedere se riesco a trovare qualcuno di meglio Per quanto invece riguarda Niles Giocatore che molti di voi mi hanno consigliato di prendere Se non tutti Non ho ancora offerto l'ingaggio Non ho offerto ancora contratto Perché ci ho provato Ma mi ha chiesto 800.000 euro 800.000 euro che secondo me Possono scendere sui 500 Sui 600.000 euro E per quanto è un giocatore comunque importante Per quanto potenzialmente è molto molto buono Non so quanto possa effettivamente valere 5-600.000 euro Sono un po' ripeto indeciso Perché è un giocatore importante per il futuro È un giocatore che andrebbe a prendere 500.000 euro E andrebbe a fare la riserva di Guzzo Perché comunque parliamoci chiaro Mentalmente e fisicamente messo bene Tecnicamente non c'è paragone con Guzzo Sicuramente ha molto più potenziale Sicuramente può diventare più forte di lui Però andrebbe a prendere 3 volte l'ingaggio di Guzzo E quindi per una riserva non so quanto senso potrebbe avere Quindi ragazzi le alternative sono 2 O aspettiamo un po' E quindi vediamo se queste richieste si abbassano Considerando però anche il fatto che potremmo perderlo Se un'altra squadra ce lo scippa O se l'Arsenal gli offre il rinnovo Però vabbè Alla fine le alternative a Niles ci sono Non è che l'unico giocatore forte che possiamo prendere Oppure buttiamo Spendiamo questi 500-600.000 euro Considerando anche però il fatto che La clausola di decisione si aggirerebbe verso i 3 milioni Quindi manco ci andremo a fare questa grande plusvalenza Quindi fatemi sapere voi che fareste Se aspettereste oppure se spendereste queste 500-600.000 euro Ultima cosa ragazzi E poi andiamo a vedere la partita contro il Lugo Non so se ve lo ricordate Ma dobbiamo decidere quale dei due mediani tenere Se tenere Samba di Akite o Do Oppure mandare via tutte e due Allora alcuni mi hanno consigliato di tenere Do Altri mi hanno consigliato di tenere Di Akite Perché comunque è un giocatore abbastanza valido Sia fisicamente che mentalmente Tecnicamente c'ha delle pecche Ma comunque scarso non è Quindi non dare importanza allo staff Sinceramente pure a me Di Akite non dispiace Anche se non gli ho dato mai tanto spazio Però scarso non è Il fatto è uno Che sinceramente ha un contraste abbastanza basso Per essere un incontrista Perché comunque contraste è uno dei valori fondamentali per questo ruolo Ho provato ad allenarlo Però diciamo che lui è scontento dell'allenamento che gli sto dando Per sfizio ho provato a metterlo in vendita Di Akite in scadenza Quindi potremmo anche perderlo a zero E non è che perderemo chissà che Di Akite invece ha il contratto fino al 2018 Quindi ripeto Per sfizio ho provato a mettere in vendita E ci sono arrivate due offerte molto molto importanti Da 775.000 euro subito cash così Senza manco le rate Lui vale 100.000 euro in meno E quindi sinceramente io le ho accettate Ovviamente ci deve ancora arrivare la conferma Quindi io in teoria posso sempre rifiutarle Quindi diciamo che sta a voi Ovviamente so chi lo terrebbe So chi non lo vuole L'offerta è questa Ci sono arrivati 775.000 euro da due squadre QPR e Preston E quindi fatemi sapere voi che cosa fareste Vedendo questa offerta L'offerta non è male Considerando che l'anno prossimo andrà in scadenza Considerando che comunque è un giocatore valido per Una serie B massimo Ma più per una squadra di terza categoria Ovviamente di alta fascia Quindi diciamo che l'offerta non è malaccio E sicuramente potremmo trovare di meglio Con quei soldi o anche a zero Detto questo quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che fareste Giochiamo con Coppola, Nobile, Satienza, Babic, Campis, Do, Guzzo, Everton Un 6 in Carbea e Crisantos Finalmente torniamo a giocare Lo facciamo da stra-favorite Addirittura danno il lugo a 11 Quindi veramente assurdo Come avete potuto ben vedere Stiamo facendo benissimo Io sinceramente Avendo parlato tanto di mercato Non mi ricordo nemmeno le partite che vi ho fatto vedere o meno Però come avete potuto ben vedere in classifica Stiamo continuando a fare più che bene E il Levante sta facendo più che male Tant'è che ha avuto un crollo E' stato addirittura superato dal Getafe Per me è veramente una cosa assurda Perché il Levante era la squadra che doveva vincere il campionato a mani basse Dopo il Getafe e dopo semmai noi Quindi secondo me le tre che dovrebbero arrivare poi in Liga Santander Sarebbero queste tre squadre Ma il Levante io da inizio campionato ho detto che per me era la stra-favorita La iper-mega vincente E diciamo che grazie alla nostra bravura E anche alla loro stagione non proprio positiva Diciamo che mi hanno un po' contraddetto Quindi diciamo da un lato meglio per noi Dall'altro mi spiace per il Levante E soprattutto per Mr. Casadesus Che è in scadenza ragazzi Dico solo questo E per quanto lo so che alcuni di voi non piace Vedere i giocatori che già abbiamo comprato Diciamo che per il momento non vuole venire Ma sarebbe un attaccante molto molto importante Intanto arriva un golasso di Everton Che diciamo si siede Forse si sarà stancato Però ha fatto un gol veramente molto molto bello E sono felice Perché come già avevo detto Io il centrocampista di quantità lo stavo cercando Perché non so se Everton sarà il titolare o meno l'anno prossimo Però sicuramente con questo gol Ci fa un po' ricordare De Guzman E quindi ci fa anche meno rimpiangere Tebar E meglio così insomma Come sempre vi ho detto Il centrocampista di quantità deve segnare O meglio De Guzman ci ha abituato così Quindi ovviamente voglio anche in queste carriere Un attaccante che è scusate Un centrocampista che continua a segnare come De Guzman Non commento questo gol ragazzi Perché tanto oramai sappiamo già che Carbià è un mostro Cioè diciottesima rete stagionale da falso 9 Quindi ringrazio sempre voi D'avermi consigliato questo ruolo per Carbià E ringrazio lui per essere così spettacolare Quindi tanta tanta roba Bell'assist pure di Chrysanthus Che è ancora in dubbio Lo so ragazzi I miei dubbi non si scioglieranno molto facilmente Sia perché voglio essere un po' più lucido Ovviamente c'è il rigore, è ottimo Ovviamente un po' con lo studio E col poco tempo La lucidità un po' viene meno Vabbè Chrysanthus Ma Chrysanthus non l'avevo tolto dai battitori di rigore Ah perché mi sa che Forse c'era Usain Non mi ricordo Perché lo sta battendo lui Spero che lo segna Se no ammazzo Meno male questo lo segna Però io l'avevo tolto dai calci di rigore Boh Devo controllare E comunque Niente quindi Il tempo che ho per Football Manager Lo sto dedicando a continuare le ricerche Quindi a vedere più giocatori possibile Che per il momento possiamo trovare Intanto stiamo vincendo in scioltezza 3-0 Quindi tanta tanta roba questo Reus Ma oramai ci ha abituato a queste prestazioni Devo dire la verità Io La seconda categoria spagnola La credevo un po' più difficile Tant'è che veramente Io pensavo di arrivare massimo sesto Però per fortuna Un po' per nostra bravura Dico nostra Sia mia che vostra Per i vostri consigli Sia per Aver trovato comunque una squadra Che era sì Destinata alla retrocessione Ma comunque aveva ottimi elementi Stiamo facendo appunto Questi grandi traguardi Tant'è che l'ultima Conferenza stampa Che abbiamo fatto Prima proprio della partita con Luca Ci hanno chiesto Secondo Cioè secondo te Il Reus si può salvare Boh A 79 punti Credo di sì Eh poi non lo so Potremmo sempre retrocedere Però C'è veramente domande No sense Di solito il limite Quando si è arrivati a 40 punti Diciamo che si è quasi salvi Matematicamente Quindi Con il doppio dei punti Mi sa che siamo più che salvi Anzi siamo quasi vincitori Del campionato Effettivamente non capisco Il senso di quella domanda Però sti cazzi L'importante è continuare A fare più che bene Usain Sicuramente potrebbe essere Uno dei titolari Dell'anno prossimo Come Nobleas Come anche Guzzo Chrysanthus un po' meno Anche se adesso Segna il gol E devo dire ragazzi Che ha fatto 15 gol Chrysanthus Facendo anche un bel po' di assist Quindi In teoria Lui deve un po' dimostrare Di poter rimanere in questa squadra Perché Lui come anche Iavi Markets Come anche Do Sono gli oggetti Del mistero Nel senso che Non hanno ancora Avuto un rinnovo E quindi non sanno ancora bene Del loro futuro E quindi Dobbiamo decidere Ovviamente Ci devono dimostrare Di meritare Di rimanere Anche l'anno prossimo Do ovviamente Gioca sempre in sordina Ragazzi Perché è un mediano E diciamo che Nelle azioni che vediamo Su Football Manager I mediani Non hanno poi Molta importanza Però Una squadra che È la prima Come miglior difesa Significa che anche il mediano Come anche la difesa Funziona molto molto bene Quindi insomma Do anche Sta facendo il suo lavoro Come difensore Come mediano In contrista È veramente tanta tanta roba Ma a 14 e 15 Quindi veramente tanta roba Intanto Yosele Ci segna fuori gioco Niente da dire Ragazzi Su questa squadra Io proprio per questo Do Lo preferirei A Samba di Akite Perché Assun di prestazioni valide Si merita Il rinnovo Come anche Chrysanthus Ha segnato Ha fatto addirittura Due gol Appunto con il rigore Mi ero pure dimenticato Ha fatto l'assist Quindi effettivamente Abbiamo uno sul rigore Però Insomma È comunque importante Quel gol Yami Marquez Invece Mi sono scordato Che c'è una clausola Nel contratto Che dopo 20 presenze Si scatta Il rinnovo Automatico In teoria Potremmo anche Fagliare fare Queste presenze Perché il rinnovo Poi sarebbe Infatti Io proprio per questo Adesso lo metto Perché il rinnovo Poi sarebbe Di 95.000 euro Cioè andrebbe a guadagnare In una prima categoria Un giocatore Che Diciamo E' pari A guzzo Se non Leggermente più forte Per esperienza Ovviamente Andremo a pagare Un giocatore Di questo calibro 95.000 euro E veramente Sarebbe Una miseria Considerate quindi Che anche Gli spezzoni Di partite Valgono Per le 20 presenze E quindi Potremmo anche Fare questa cosa Questo Farlo giocare Mi pare Altre 5-6 partite Per rinnovare Automaticamente Il contratto E trovare appunto Un giocatore A 85.000 euro 95.000 euro Intanto vabbè Ci segna Lugo Mi spiace un po' Perché avrei preferito Non subire gol Ma A meno che Adesso non ci facciano Tre gol In pochi secondi Ecco appunto Football Manager A volte è un po' Bastardo Io mi sto un po' Distraendo Infatti adesso Ci segnano sicuro Al 100% Certo se ci rifacciamo Prendere il 4-0 Mi incazzo come una faina C'è Pita Calavera Pita Dai ragazzi Non scherziamo proprio C'è Bico Caballero C'è ancora Vico Campis Vabbè L'espulsione di Campis Io ero indeciso Se metterlo o no Perché è stato anche Un po' Infortunato Se ben vi ricordate E quindi Da un lato Mi pento di averlo messo Partita che vorrei Che finisse In modo molto Molto tranquillo Quindi io in teoria Potrei anche togliere Carbià E lasciare L'attacco solamente A Chrysanthus Che comunque Sta messo Meglio Come condizione Quindi può fare Abbastanza bene Nel reparto da solo Lasciamolo centravanti Usain Diciamo Gli può servire I palloni utili Cerchiamo di finire In un modo decoroso Diciamo L'espulsione di Campis Non ha proprio senso Porca trota Che cazzo di goal Che ci hanno fatto Mamma mia Ragazzi Per favore Stiamo in 10 Però Una partita dominata Non buttiamo Alle ortiche Qua ci fanno il 3 Pita C'è Bico No raga Io qua proprio sbotto No vabbè Dai Qua sbottiamo tutti Ragazzi Ma football manager Infame Perché appena ci ha segnato Io l'ho capito Che qua Dovevano recuperare La partita Se qua si fanno il 4 goal E io proprio Disinstallo il gioco Vabbè Raga ma che cazzo Stiamo facendo Ripeto Partita che doveva essere Chiusa Proprio subito Vabbè è finita Meno male Ma Io non voglio dire niente Ragazzi Perché Intesto solo Bestemmie Loro festeggiano Perché comunque Sono tre punti Importanti Ma io non parlo Alla squadra Perché veramente Porca miseria Detto questo ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando a bomba Con i commenti E con i consigli Come sempre Lasciate un bel like Commentate Condividete A mettere il video Questo per permettere Al canale Di crescere sempre di più Come sempre Un saluto Da Mike44 Ovviamente Da Football Manager Italia E grazie sempre per tutto Ciao ragazzi